Uno, nessuna, centomila, chiaramente ovviamente faccio riferimento a Pirandello per raccontare storie di donne, uno è chiaramente il maschile, nessuna perché è il femminile, centomila perché sono tante le storie di donne che si privano di libertà, sia perché c'è una sorta di prigionia indotta e sia perché c'è una prigionia scelta, avevo voglia, ma questo lo faccio spesso, di raccontare storie di donne, con me ci sono quattro giovani attrici di cui due hanno anche scritto i testi, chiaramente elaboriamo una serie di percorsi che attraversano l'animo del femminile e le condizioni del femminile per cercare di sollecitare in qualche modo il pubblico ad una riflessione, chiaramente la riflessione per quanto mi riguarda è sempre la stessa, cioè la capacità di essere donne, ma la capacità di essere libere, donne libere, in fondo è una delle cose più difficili che questa società consente. Grazie a tutti.